E' un peccato di superbia veramente grande, forse il più grande peccato condannato più volte nella Sacra Scrittura. Dice di non credere, tutti crediamo in una cosa, però molte volte ci riteniamo di essere Dio, la sua domenica, la sua domenica, la sua dannazione. Non è lui, dinanzi al Signore, giorno del lavoro, festa della polizia che di solito facciamo, la nazione, l'educazione oggi c'è grande emergenza, perché sempre ci hanno insegnato che educare, guidare tutti nella nostra vita, noi siamo impegnati come Chiesa, voi siete impegnati. E con tutti i nostri limiti umani abbiamo tutti peccati da farci perdonare. Il segno di roccio è tutto in santo iniziale, ecco, per essere ormai noi impegnati nel colpimento del nuovo per tutti.